carissimi amici e amiche bentornati nuova puntata del ciclo che ti catechesi dedicato ai novissimi stiamo affrontando il tema del giudizio particolare che la volta scorsa abbiamo cercato di sviscerare dettagliatamente attraverso l'escursus biblico e poi anche vedendo una serie di passaggi di importanti documenti magisteriali concili e dichiarazioni di papi che affermano chiaramente questa realtà cioè che al momento della morte ci si trova dinanzi a cristo giudice e si riceve diciamo così adesso non avrei abbattuto questa sera approfondiremo meglio il senso di queste espressioni una sentenza quindi che può essere dannazione beatitudine o tempo di purificazione che abbiamo anche visto che questo però lo riprenderemo a suo tempo che in certe condizioni l'esito del giudizio può essere differente quindi nessuna di queste tre ma dicevano i consigli essere quelli che vanno con il peccato originale con il peccato attuale vanno all'inferno per essere puniti con pene differente però rimaniamo così perché avremo poi tempo di prendere nel dettaglio tutte queste espressioni e quindi di poi approfondire argomento per argomento tutto mano a mano che ecco nel decorrere della nostra disamina ci porta verso tutte queste questioni oggi dobbiamo fare uno step successivo no perché stiamo cercando di seguire anche in questa disanima il metodo diciamo oggi più in auge a mio avviso sotto questo punto di vista perfettamente accettabile che appunto quella di scrittura tradizione magistero e poi riflessione teologica e sistematica degli argomenti siamo a questa ultimo step allora ci introduciamo a questo step dicendo anzitutto c'è qualche contestualizzazione storica da fare l'età patristica facciamo uno step indietro rispetto ai concili che abbiamo visto riguardanti un'età già avanzata del secondo millennio su questo argomento perché per esempio la prima cosa è gli interventi magisteriali su questo argomento sono stati così tardivi rispetto a dopo 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 1500 anni di storia no 1500 non un po troppo 1200 con giro di lione però sono comunque 1200 anni no perché nell'età patristica ci si occupava prevalentemente del giudizio universale e della parousia come vedremo a suo tempo questo fu favorito anche dall'interpretazione letterale molto molto letteralista quasi ecco di alcuni passaggi delle lettere del pistola paolino o anche di altri brani del nuovo testamento che sembravano come dire suggerire una parousia imminente e quindi l'imminenza della del giudizio universale quindi della separazione definitiva ecco della chiesa da ciò che chiesa non è e da chi di chiesa non fa parte in realtà è vero che ci sono dei testi che volgono su questo che potrebbero far pensare quest'imminenza solo che come stiamo capendo e qui faccio come al solito i miei rimandi no come stiamo capendo anche dalle catechesi di sutenere amata quando si fanno discorsi di questo genere quindi presto tardi bisogna semplicemente capire ma di su a su che frequenza temporale ci stiamo ponendo perché il libro dell'apocalisse conclude dicendo mettendo in bocca a gesù ecco io vengo presto e porterò con me il mio salario ora se qualcuno degli ascoltatori in diretta o indifferita si pensa che duemila e ventidue anni ha detto mila e ventidue rispetto di facciamo circa duemila poco meno rispetto all'ascensione di gesù sia presto alzi la mano presto 1900 anni quando tu dici a qualcuno ci vediamo presto cioè non intendi questo no quindi la scrittura mente o gesù ha detto il falso no per capire il senso di quel presto bisogna ricordare ecco perché bisogna vedere su quale frequenza temporale ci si pone abbiamo imparato dal libro di teneramata che per esempio la frequenza ordinaria cioè l'unità di misura fondamentale del tempo sul pianeta terra questo non ci serve teneramata lo sappiamo comunque è il secondo ma quello che noi non sappiamo e forse non sapevamo forse qualche scienziato lo sa ma non certamente molti ci sono altre frequenze con cui si possono misurare il tempo molto 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 più lente molto molto più infinitesimali e ci sono delle frequenze certamente anche molto molto più intense ecco allora se la sagra scrittura dice ai tuoi occhi parlando di dio il giorno mille anni sono come il giorno di ieri che è passato e san pietro nelle sue lettere citando questo brano dice ricordate fratelli davanti al signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo allora se sono passati circa 1900 anni dalla ascensione in realtà non sono passati manco due giorni giusto perché se un giorno vale mille anni allora capite che se ci poniamo su questa frequenza temporale se tu dici a un amico ci vediamo presto se non sono passati neanche due giorni stai ancora in tempo stai diciamo che ci vorrà almeno una settimana se una persona dice ci vediamo presto e si fa vivo tre quattro giorni dopo ha detto la verità certo se si fa vivo un mese dopo è un po' troppo pensate se avesse ragione così facciamo un'altra intercommissione come dire come io sospetto quindi Luisa Viccarreta che Gesù a Luisa Viccarreta gli dice che ha suddistinto la storia a blocchi di duemila anni quindi partendo dalla creazione dell'uomo situabile circa 4.000-4.500 anni avanti Cristo si va avanti per blocchi di duemila giudizio universale e diluvio universale circa nel duemila avanti Cristo venuta di Cristo poi ci sono il primo e il secondo combattimento escatologico se la storia va avanti nei momenti nevragici a salti di duemila significa mo sto fantasticando un po' no? che adesso sono passati due giorni ma la parousia presumibilmente stando a questa calendarizzazione ne arriverebbe intorno a 4.000 e quindi se agli occhi del Signore mille anni sono come un giorno solo sono passati quattro giorni e quindi il nostro Signore evidentemente ha detto la verità se lo sappiamo che dice la verità però sto cercando di far capire no? allora però in età patristica tutte quante queste considerazioni evidentemente non sono state fatte almeno non in questi termini no? c'era e quindi però il giudizio particolare è stato un pochino trascurato non lo stampa abbiamo visto anche la volta scorsa no? che i brani biblici che parlano del giudizio particolare ne fanno comprendere l'esistenza certamente in maniera non proprio diretta no? ma indiretta la stragrande maggioranza di essi certo dice Enrico Pulone stando nell'inferno tra i tormenti se è morto vuol dire che è stato dannato così come quell'altro stava nel seno di Abramo quindi il povero Lazzaro no? oppure il buon ladrone a cui Gesù dice che oggi sarei come in paradiso ora c'è stato però un momento storico è per questo che poi sono arrivati i concili in cui il tema del giudizio particolare è stato posto come dire al centro dell'attenzione teologica quando e soprattutto perché è stato in concomitanza con l'avvento della scolastica che è situabile nella sua fase matura anche se c'erano stati dei prodromi nel XIII secolo tanto è vero che San Tommaso che ne è l'elemento di spicco vive nel XIII secolo ecco abbiamo visto l'oltre scorsa stava andando anche lui al concilio di Lione insieme a San Bonaventura perché questa sottolineazione del giudizio particolare qui bisogna fare una parentesi un pochino erudita mi si perdonerà però bisogna dirlo insomma d'onore del vero no? sappiamo che in quel tempo quindi anche in età scolastica c'era stato da qualche tempo prima la riscoperta di Aristotele e dell'aristotelismo fu un fenomeno molto complesso perché Aristotele come tutti i filosofi pagani su alcune cose diceva il vero e comunque aveva un armamentario, uno strumentario che fu quello che poi su San Tommaso straordinario da utilizzare e molto adatto a una certa indagine teologica però c'erano anche dei passaggi molto molto ambigui molto eterei adesso devo fare un riferimento un po' tecnico Aristotele distingue nell'atto conoscitivo l'operazione che compie l'intelletto possibile che è fondamentalmente passiva è quella che opera l'intelletto agente per astrarre un concetto un'idea da una realtà sensibile da cui derivano tutte quante le forme primordiali di conoscenza in alcuni passaggi dei suoi scritti questo intelletto agente sembrerebbe non avere natura individuale quindi è una sorta di macroanima del mondo e che quindi eserciterebbe, che aiuterebbe tutti quanti gli intelletti degli esseri umani in maniera un po' immanentistica e impersonale a compiere questo processo sto cercando di fare il più semplice possibile se no ci dobbiamo passare la serata intera a parlare di queste cose ma attenzione se l'intelletto agente non avesse natura individuale sarebbe problematico affermare l'individualità dell'anima e quindi avviene lo sminuimento inaccettabile per il cristianesimo dell'individuo adesso questi discorsi anche a livello ecclesiale possono anche sembrare un pochino perché sentirete molto spesso dire l'abbiamo sentito anche di recente anche in occasione di ben noti eventi pubblici che l'individuo non è così importante perché è più importante la comunità la collettività penso che tutti quanti abbiamo sentito dire queste cose in un'ottica cristiana questo non è affatto vero perché chi è importante è sempre il singolo certo anche nel suo contesto sociale è chiaro che la chiesa è certamente la famiglia di Dio quindi non ci sono degli individui è come dire affastellati insieme come isole e come meteore no ma attenzione al primo posto c'è sempre la persona e poi il suo contesto d'insieme ed ogni uomo in quanto persona spiega proprio San Tommaso è anzitutto un individuo ecco perché il giudizio particolare che riguarda la tua personale vita ed evidentemente è anche sempre la parte di un tutto io sono persona e tu sei persona e ci si può concepire guardate parti di un tutto a parissimi livelli per esempio c'è una famiglia io sono adesso insomma siamo rimasti in pochi ma c'è una famiglia di cui tu sei una piccola parte io non sono la mia famiglia sono parte della mia famiglia c'è la comunità civile in cui noi siamo vissuti quando andavamo a scuola noi eravamo uno un alunno di tanti di una classe quindi faccio parte della classe X l'individuo che sta dentro questo gruppo le appartenenze di gruppo sono molto importanti io sono nato in una città adesso vivo in un'altra quindi si fa parte però della comunità sociale facente capo a quella città con tutte quante le sue tradizioni i suoi usi in carità poi io sono italiano non sono giapponese quindi faccio parte dell'Italia l'Italia fa parte dell'Europa e l'Europa fa anche parte della comunità umana del mondo quindi io sono un cittadino come dire un cittadino non ho un gran termine faccio parte anche della razza umana quindi ci sono vari livelli diciamo così dell'essere parte del tutto e la stessa cosa avviene a livello ecclesiale a livello ecclesiale noi cresciamo siamo battezzati dopodiché la chiesa è proprio strutturata attraverso forme di aggregazione a livello comunitario ci sono le parrocchie cioè tu fai parte di una certa parrocchia poi fai parte di una certa diocesi e poi fai parte della chiesa cattolica che è universale ok allora Sant'Omaso dice se l'uomo è persona e la persona è individuo e parte di un tutto è chiaro che deve avere due giudizi quello come individuo e quello come parte del tutto ed ecco i due giudizi particolare ed universale particolare al momento della morte e riguarda la tua persona in quanto individuo cioè quello che tu hai fatto davanti a Dio e giudizio universale adesso evidentemente non mettiamo le mani avanti non anticipiamo i tempi quello che tu hai fatto a vari livelli quindi in relazione a tutti quanti i vari tutto di cui tu sei parte quello che hai fatto tu e quello che ti hanno fatto a te viceversa il giudizio universale quando poi lo vedremo sarà a quel poco che c'è da riconoscere uno spettacolo abbastanza abbastanza interessante dove tanti nodi verranno al pettine la presenza di questo duplice giudizio amici cari deve darci una grandissima consolazione perché spesso e volentieri noi abbiamo delle ansie legittime di giustizia subiamo delle ingiustizie vorremmo che ci fosse fatta giustizia ripeto desiderio più che legittimo ma stare tranquilli che giustizia sarà fatta giustizia sarà fatta di ogni singolo genere giudizio particolare ma anche tu vuoi soddisfazione per presunti soprusi che hai subito sta tranquillo perché se quei soprusi sono reali non presunti la soddisfazione verrà devi solo avere un pochino di pazienza noi fino a quando siamo in questo mondo dobbiamo imparare molto bene ad avere tanta pazienza a sapere attendere c'è un bellissimo rosero meditato che ogni tanto faccio con le meditazioni di un padre gesuita di vecchio stampo il padre Giuliani che dice attendere è la grande parola cristiana tant'è vero che la chiesa ogni anno ci dedica un tempo liturgico a vento vento è il tempo dell'attesa non è soltanto l'attesa che ritorna a Natale e quindi che rievochiamo storicamente la nascita di Gesù uno ma anche quell'altra doppia attesa noi siamo in attesa del giudizio universale siamo in attesa che il Signore bussi alle porte del nostro cuore il giorno in cui arriva la sorella morte ma siamo anche in attesa questa è la parte più bella delle visite del Signore che non è soltanto venuto nella storia appunto nella storia duemila anni fa ma le venute del Signore sono un fatto indubitabile e sicuro esistenti in ogni singola vita umana particolarmente cristiana è solo che bisogna imparare a saperle riconoscere e quindi ad accoglierle d'accordo? ora che cosa succede al giudizio particolare? per esempio cominciamo a poter andare a vedere anzitutto che cos'è il giudizio particolare? ci immaginiamo forse una corte celeste quindi abbiamo le tre persone della tantissima trinità che fanno anche qui giù i giudici c'è il presidente e poi c'è il giudice all'atere poi c'è il pubblico ministero che sarebbe il diavolo che ci accusa davanti a Dio e poi abbiamo l'avvocato difensore che sarà l'angelo custode potrebbe essere una scenetta anche divertente questa qui anche suggestiva ecco a quanto dicono i santi San Tommaso in particolare non è così non è così semplicisticamente è un attimo il giudizio particolare dice ma come ho campato 80 anni quanto ci vorrà fammi il giudizio su tutto quello che ho fatto sapete quanto ci vuole mi sa che qui siamo in termini di picchi secondi di nanosecondi perché immediatamente dopo un morto cosa succede? la luce di Dio Dio è luce dicono invade completamente la tua anima ricordiamo le parole bellissime di un salmo alla tua luce vediamo la luce cioè in un istante noi rivedremo tutta la nostra vita nella verità più assoluta che esiste con la luce stessa di Dio lì non ci sono più possibilità di menzogne di mentire di nascondersi di fare l'ipocrita la doppia faccia zero cioè messi dinanzi a noi stessi nella verità più assoluta tant'è vero che qualunque sia la sorte dicono l'anima l'accetta in maniera assoluta perfino i dannati nel senso che i dannati non vorrebbero certamente essere dannati ma capiranno in quel momento perfettamente che devono essere dannati che è giusto che sia così poi si ribelleranno a tanti minuti che si ribellano perché se lo tengono lo stesso ma in quel momento capiranno che è giusto perché verranno tutte le grazie sprecate tutte quante le cose ricevute da Dio e non utilizzate bene tutti i peccati mortali fatti il male commesso le persone che hanno sofferto per causa loro tutte le volte in cui il Signore quasi supplicandoti gli è andato a bussare alla porta del cuore dicendo smettila chiedimi perdono è sempre forse zero e così vedremo perfettamente tutte quante le nostre miserie mancanze e imperfezioni e prenderemo coscienza che non esiste neanche un'imperfezione involontaria non non espiata non risolta non riparata che prima che tu la ripari e la espi ti permettete di entrare in paradiso vedremo le cose nella verità cioè noi non ci noi non conosciamo amici miei bene noi stessi e sarebbe assai bene ricordate quel passo di San Paolo dove dice che ogni giorno affronta la morte se noi fossimo capaci di chiedere al Signore pregando quel bellissimo salmo alla tua luce vediamo la luce fare una strava preghiera del pubblicano nella Vangelo di domenica scorsa quella che la filocalia russa ne aveva fatto col pellegrino russo un 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 cavallo di battaglia no Signore abbibita di me che sono un peccatore ma non tanto per dirlo se noi fossimo capaci almeno di chiederle al Signore la luce ma guardate raggiungeremmo e questo sarebbe la condizione ottimale per il giudizio particolare quella che si chiama l'umiltà del cuore cioè San Paolo dice se io non sono consapevole di colpa alcuna io non sono giustificato lo sai tu che non hai uno sguardo oggettivo su te stesso per quanto ti sforzi ci sono molte cose riguarda me riguarda te che io penso che non ho fatto niente di male e invece davanti al Signore qualcosa di male c'è così invece a volte magari penso di aver fatto qualcosa di male a livello di imperfezione e davanti al Signore non c'era proprio niente di male siamo consapevoli di queste cose dobbiamo assolutamente prenderne la consapevolezza ma siamo consapevoli di un'altra cosa molto molto semplice no? ma chi di noi si può mettere davanti a Dio e competere? cioè il giudizio particolare è uno dei luoghi teologici dove si mette in risalto che io sono un poveretto e Dio è Dio davanti a Lui non ci possiamo nascondere ecco perché a mio modestissimo avviso avrà un giudizio particolare veramente leggerissimo sapete chi? lo dico in continuazione nelle mie catechesi devo farlo anch'io e più lo facciamo è meglio noi siamo capaci di metterci davanti a Dio adesso io quando voglio far riflettere una persona gli dico senti un attimo dice perché poi noi ci facciamo tutte quante le elucubrazioni mentali per giustificare quello che vorremmo fare anche se la coscienza ci rimprovera ma noi in realtà citiamo con estrema facilità tu devi chiedere senti un po' ma io sto facendo questa cosa per questo motivo non sapeste quante perché noi ci diciamo sempre un sacco di balle me lo avrete sentito dire infinite volte no? cioè un comportamento motivato da un'intenzione profonda e mascherato da un'intenzione apparente questo lo facciamo quasi sempre l'intenzione apparente deve darsi una parvenza positiva ma l'intenzione nascosta è negativa e quindi quella azione agli occhi del Signore è negativa ma se tu continua a dare retta alla giustificazione che ti sei dato tu questo non ci arriverai mai e arriveranno poi le sorprese al giudizio particolare dove vedrai il nostro Signore io adesso semplifico non funziona così no? però in qualche cosa del genere dovremmo percepire lui dice ma figlio mio ma che ti metti a fare? tu vengono agli uomini ma non hai imparato a vivere sotto il mio sguardo che non dobbiamo pensare a uno sguardo arcigno che ci sta sempre a guardare che vuole controllare tutto lo che facciamo che poi ci vuole punire no lo sguardo di Dio è uno sguardo amorevole sempre però è anche uno sguardo giusto è uno sguardo cioè a Dio noi non possiamo prendersi il gioco di Lui irriderlo o pensare di poterlo ingannare no? o anche solo di poterci nascondere davanti a Lui quell'altro bellissimo Salmo 138 tu mi scruti e mi conosci sai quando mi siedo quando mi alzo penetri i miei pensieri ti sono note tutte le mie vie ancora la mia parola non è solo la lingua tu già la conosci ecco tutte queste cose al giudizio particolare appariranno nella loro chiarezza più assoluta e nella misura in cui ripeto le abbiamo fatte le nostre finte a questa vita ci prepariamo a questo evento e inevitabilmente il giudizio particolare sarà leggero no? perché pensate se io imparo a mettermi davanti a Dio e mi accorgo che una cosa che mi hanno messo in testa di voler fare ma non è tanto da fare sia per la cosa in sé sia per le intenzioni profonde che mi animano è come dire un appunto in meno diciamo così che mi sconto qui dal giudizio particolare sicuro 100% anche se lì è tutto istantaneo è un'istantanea presa di coscienza capito perché è così importante imparare a formulare dei corretti sani e santi giudizi di coscienza no? quindi non ci sono tribunali d'accordo? non c'è il presidente del tribunale con il giudice all'atere è la luce di Dio che invade la tua coscienza è il essere in un istante capace di rivedere in un battito d'ali tutta la tua vita così come Dio la vede e immediatamente la sentenza del giudizio particolare in realtà l'anima se la potrebbe tranquillamente dare da sé in un certo senso se la dà da sé perché mentre qui noi possiamo illuderci dire ah ma no io sono tanto bravo io non faccio niente di male e che faccio di male? non è mazzo non rubo non faccio niente lì non succede perché tutto il male tutto il male che hai fatto verrà fuori io vi invito se qualcuno vuole farsi un regalino se non l'avesse mai fatto a leggervi il libro di Gloria Polo sono state alle porte dell'inferi e dell'inferno di questa dentista colombiana che a causa di un fulmine entra in coma e durante il coma vede quello che gli sarebbe successo se fosse morta in quella circostanza attenzione chiaramente cattolica praticante non abbastanza che però non ha fatto tutti i catticolori si leggono nel libro per esempio era stata colpita dal fulmine perché portava la spirale la spirale che tra i mezzi contraccettivi è il più grave di tutti ma quella si faceva tranquillamente la comunione la domenica con tutta quanta la spirale addosso aveva commesso il diritto di aborto credo di sì se non ricordo male e tante altre cose pure la pensava di essere una bravissima persona era una professionista stimata e quindi che avrò fatto mai lì in quel momento capisce che se fosse morta sarebbe andata dritta dritta all'inferno e non lo pensava per altro particolare non da nulla adesso si ricomincia a parlare speriamo che la piantino ma se ne è parlato nei mesi scorsi dell'eutanasia impecilli proprio vatti a leggere il libro di Gloria Polo e quando lei stava in coma quindi coma vuol dire che tu non sei cosciente ma la nostra anima coincide con la nostra coscienza ma noi che cosa ne sappiamo se non ce lo dice Gloria Polo uno che c'è stato che cosa accade in quei momenti come fa uno a sostituirsi alla volontà del malato in certi casi è possibile farlo quando è provata l'eutanasia a dire no questo questo lo facciamo fuori che non merita più di vivere quelli stavano discutendosi staccare la spina quella da e Gloria Polo chiaramente senza potersi far sentire perché i sensi erano fermi perché stava in coma ma pur stando i sensi fermi lei viveva e come ma era consapevolissima quando si accorse che questi volevano staccare le spine non poteva farlo ma lei stava disperata perché dice no lei stacca la spine se mi stacchi la spine adesso mi avevo dritta all'inferno grazie a Dio non l'hanno staccata la spina ma lei racconta che questa cosa la viveva quindi dice che ti stacchi la spina perché il nostro signore disse io adesso ti consegno vedi questa è la fine che avresti fatto io ti concedo di tornare sulla terra purché tu racconti una quantità smisurata di volte all'edificazione evidentemente di chi non ci crede questa storia perché il nostro signore non si contenta vedete questo è un conciclo di catechesi qui stiamo vedendo la sacra scrittura i concili e la diffusione teologica prevalentemente al riguardo di San Tommaso ma siccome molte volte queste cose non bastano una demanda di relazione privata e qualche raro caso ti fa fare un'esperienza personale a te che ti convince proprio che le cose non stanno come la pensi tu ma stanno esattamente come le insegni in maniera sempre come dire asettica e ordinata ma puntuale e precisa la chiesa e attenzione poi avremo modo di rivederlo perché per esempio si va all'inferno perché si dice che va all'inferno chi muore in stato di peccato mortale senza essersi pentito c'è un momento allora noi dobbiamo calcolare che fino a quando siamo in questa vita ecco perché nessuno mai spari giudizi definitivi sul prossimo quello è un peccatore quello è inconvertibile oppure quello è un santo ma chi te l'ha detta queste cose qui cioè durante la vita terrena come qualche filosofo ha giustamente visto noi siamo esseri assolutamente in divenire il divenire non è l'ultima parola delle cose perché il divenire tende a qualche realtà che rimarrà stabile d'accordo perché la salvezza e la dannazione sono realtà che poi rimangono stabili ma noi qui siamo continuamente tendenti al divenire io oggi posso aver vissuto una grande giornata domani mi posso impazzire fare un peccato e perdere la grazia di Dio allora che cosa succede che come ti trova la morte il momento in cui l'anima si separa dal corpo meglio sarebbe dire dal cadavere anche qui facciamo un riferimento anticipato a tenere la nata comunque dal momento in cui l'anima si stacca dal corpo che cosa succede succede che la tua volontà da quel momento in poi come dire si cristallizza nello stato in cui si trovava al momento della morte non può più il divenire è finito non c'è possibilità più di più di mutazioni come stavi quello è sotto tutti i punti di vista stavi in grazia sei salvo non stavi in grazia sei dannato quanta penitenza hai fatto dei peccati tanto meno e meno lungo purgatorio ti fai quanto meno non hai fatto non c'è più tempo non c'è più tempo quale grado di gloria hai conseguito quello guadagnato con i meriti derivati dalle buone opere e degli atti di virtù compiusi durante la vita mortale da quel momento il tempo è finito quanto dovrai stare in purgatorio esattamente tanto quanto se lo meritano le tue azioni i tuoi peccati veniali o quelli mortali non sufficientemente riparati quanto sarai dannato quanto sarai torturato dalla furia implacabile dei demoni né più né meno di quanto lo meritano il numero e la gravità dei peccati mortali che tu hai commesso in vita non di più quindi al momento della morte il divenire cessa la volontà si radica ecco perché noi dobbiamo arrivare pronti al momento della morte c'è molta gente che pensa tutta contenta vedete quanto quanto siamo sciocchi quello è morto nel sonno gli è preso un infarto non se ne manca accorto è andato a dormire gli è preso un infarto è morto e la mattina non si è manco svegliato non ha sofferto beato lui beato lui si è sicuro che è beato lui dipende come è come è andato a dormire quella sera perché se prima di andare a dormire avesse detto una bestemmia beato lui se c'è dei peccati mortali di cui era consapevole che non ha mai confessato in vita non ha mai fatto la confessione generale beato lui sicuro siamo andato in vacanza il Padre Eterno trascurando la messa domenicale per qualche decennio e non ha avuto tempo di ripararle fino all'ultimo voi sapete che per aprire un'altra finestra inedita su una mistica morta non molto tempo fa apparentemente attendibile ma questo non ci vuole una mistica ci basta il buon senso io questo non sono d'accordo al 100% ma non perché lo dice la mistica ma perché non ho nessun dubbio che sia così voi sapete che ogni peccato che noi facciamo deve essere riparato con un atto uguale e contrario allora se tu sei mancato da messa che ne so hai fatto la cresina dopodiché hai fatto lo zingaro fino a 40 anni 18-15 anni di messe domenicali perdute e festive la sua presta fa i conti ci sono 52 domeniche e 6 feste comandate sono 58 per 10 anni sono 580 messe per 20 sono 1060 per recuperare 1060 messe e verse le hanno ammesse tutti i giorni per 3 anni di seguito tutto qua Maria Simma diceva mancate mancate la messa domenicale ma sappi che di ogni singola messa a cui sei mancato voglio confessarti a meno che dopo che ti sei confessato non la ricuperi evidentemente potendo potendo significa anche a costo di qualche sacrificio perché a volte non è che potendo significa a buon mercato no potendo significa potendo quindi siamo proprio sicuri che quello che è morto in queste condizioni cioè e la grande domanda che dobbiamo farci è ogni sera che andiamo a dormire perché la morte la notte scusate è figura del sonno della morte no? non c'è bisogno di leopardi ricordare leopardi per capire questa cosa forse perché della fatale quiete tu sei l'imago ammessi caravienio sera no? tutti quanti penso che ricorderemo questi splendidi versi no? la notte è immagine figura della morte e a te che mi stai ascoltando facciamo prima quelli che stanno in diretta se questa notte come dice Giove nel Vangelo ti sarà chiesta la tua anima tu che gli racconti al nostro Signore come stai? sei riato preparato? hai pagato i debiti hai pagato i conti con la dina giustizia hai riparato il male che hai fatto l'hai espiato ne hai fatto penitenza stai in grazia ti sei confessato noi dobbiamo essere sempre pronti al giudizio particolare cioè il divenire della vita sul pianeta Terra io ricordo bene quando ero piccolo c'è stato mio parente abbastanza vicino tra l'altro come pomeriggio è uscito per andare a lavorare e a casa non c'è tornato gli è preso un bel infarto fine specialmente chi arriva intorno ai 50 e over e over 50 questo è un periodo buono perché pare che l'infarto insomma quello che ti stecca colpisca in questa faccia in questa faccia di dà quella persona che gli accade c'è avravo 50 anni che andiamo a raccontare nostro signore siamo pronti siamo in grado siamo capaci ce la facciamo noi dobbiamo essere sempre pronti allora andiamo avanti quindi dice Sant'Ommaso che nel giudizio particolare alla luce di quanto detto c'è la presa di coscienza immediata la sentenza scatta immediata e l'esecuzione della sentenza viene immediatamente eseguita voi sapete il giudizio richiede una terminologia mutuata dall'ambiente forensico questo l'ho studiato no? allora nella nella giustizia umana allora che cosa c'è? c'è un processo che viene fatto che dura del tempo il processo porta a una sentenza se la sentenza è una sentenza di condanna poi deve essere eseguita no? sei stato condannato a morte ci trova la boia che ti ammazza sei stato condannato all'ergastolo c'era qualcuno che ti porta in galera e ti chiude dentro la cella insomma l'esecuzione della sentenza o in giudizio particolare come quando ci troviamo nelle cose che riguardano Dio è tutto un attimo ecchia canzone di Anna Oxa è stata istantanea subito presa di coscienza quindi processo sentenza termine del processo esecuzione della sentenza corollario del processo ed è evidente che il posto eminente preeminente non è nel giudizio particolare il processo perché il processo non c'è di fatto perché cioè c'è ma non c'è perché è una cosa istantanea quindi l'importante è il verdetto e l'esecuzione e attenzione che di tale verdetto ecco proprio il punto dei punti l'uomo conosce chiaramente la motivazione e guardate che cioè ve lo dico da sacerdote noi ci stiamo avviando verso la conclusione quanta fatica che si fa tante volte con le persone cioè io dopo a un certo punto le dico senti un sacerdote capisce un pochino molto alla lontana se credo il cuore di Dio dico guarda allora quando un sacerdote deve fare come dire una correzione deve riprendere qualcuno deve aiutarlo magari a prendere coscienza di una cosa che non vede è una delle cose più difficili che esiste al mondo perché dentro di noi è proprio come dire è proprio radicata la tendenza all'autogiustificazione perpetua sapete che ci stanno i detti dei romani o quando uno comincia a parlare dice guarda non è per questo però io devo fare così se dice non è per questo i romani dicevano escusatio non petita accusatio manifesta chi te l'ha chiesto di fare una cosa del genere qua ricordate che questo proverbio funziona quasi sempre allora può succedere che tu hai a che fare con un'anima cioè io questo ve lo dico perché il cuore di un sacerdote la mente anche di un sacerdote anche per la grazia di stato che riceve dal Signore un po' per la preparazione remota prossima per l'esperienza che puoi accumulare nel corso del tempo un po' perché il Signore io lo vedo cioè ti aiuta in continuazione perché nessuno cioè chi è quale essere umano lasciato a se stesso potrebbe fare il sacerdote nessuno però dentro questa realtà è chiaro che poi c'è la carità cosiddetta pastorale cioè che un sacerdote vuole se è degno di questo vuole il bene della persona lo so che se dovrò dirti questa cosa ti farò soffrire un po' perché nessuno è contento di dover scoprire un lato oscuro di sé un difetto una condotta da correggere nessuno ma che facciamo se io non ti aiuto tu starai male perché il peccato è morte guardate che io queste cose le ho vissute purtroppo delle volte cosa succede che per la per lo zelo per la voglia che ti dispiace d'accordo vedere questa cosa qui magari uno esagera pure un po' perché pensate a quanto dispiace al nostro Signore per il nostro Signore molto delicatamente ti dà degli input dopo di che fa un passo indietro e aspetta pure lui è un grande un grande paziente un grande si può dire attenditore non credo ma uno che attende uno che paziente io sto alla porta e bus perché questa difficoltà perché la persona non la capiscono dice ma questo ma questo ce l'ha con me ma questo ma che dice ma mi ha frainteso non mi capisce non è vero quello che pensa di me per carità un prete è un essere umano è fallibile non è mica per carità non è mica il Padre Eterno è un Padre non è il Padre Eterno però in base all'esperienza che c'è nel giudizio particolare questo non accade perché la motivazione di tu è chiarissima noi non potremo dire no che cosa mi dici di che cosa mi accusi questo non è vero non lo potremo dire non lo potremo perché sarà palese evidente quindi la motivazione è chiaramente conosciuta ma sarà conosciuta anche l'incontestabile giustizia dell'esito del giudizio particolare incontestabile perché Dio te la fa vedere allora volendo concludere le ho già dette alcune cose così archiviamo il giudizio particolare per fare in modo che questo giudizio sia leggerissimo ci sono alcune alcuni accorgimenti numero uno la cosa fondamentale è vivere da grandi amici di Gesù e di Maria perché se la tua volontà è buona e questa è la buona volontà troppo frettolosamente messa nel dimenticatoio la buona volontà è la nostra è la nostra è la nostra salvezza cioè se tu hai una volontà buona cioè se tu sinceramente nel cuore e questo lo sai anche tu e Dio lo vede cerchi il Signore vuoi servirlo vuoi amarlo vuoi conoscerlo di più quindi non faresti un peccato ad occhi aperti è già sulla buona strada chi sta in questo modo non deve temere il giudizio particolare perché il giudizio particolare deve essere temuto non da chi è amico di Gesù e di Maria da chi porta il loro nome nel cuore e li ama perché per chi li ama loro vengono come amici certo anche per loro anche anche dinanzi ai loro amici devono essere imparziali devono essere giusti perché non ci sono figli dell'oca bianca ma insomma una persona che vive nella buona volontà che ha sistemato i conti con il passato che ha fatto la confessione generale e insomma rischia fino alla fine per carità perché il demonio ci tenta fino alla fine però se tutto va bene è difficile che va a finire dannata no? dobbiamo chiedere sempre il dono della perseveranza finale il problema grosso e questa catechesi dovrebbe cioè dovrebbe servire a scotere soprattutto queste coscienze è chi non sta in questa condizione è chi sta già rischiando e lo sa in fondo in fondo lo sa perché si rimette in carreggiata il più presto possibile perché poi arrivato il momento del giudizio quello che c'è stato c'è stato e come dicono i francesi rien ne va più i giochi sono fatti sono finiti non si torna più indietro non si possono più cambiare le carte in tavolo quindi teniamo presente questa questa cristallizzazione questa radicazione se mi si passa questo termine della volontà nello stato in cui si trova ecco perché gli angeli hanno detto pace in terra agli uomini di buona volontà perché gli uomini di buona volontà l'accoglieranno la pace del Signore l'accoglieranno la parola del Signore cercheranno di servire il Signore e non troveranno un giudice inesorabile ma troveranno un giudice clemente clementissimo un amico prima che un giudice bene amici direi che possiamo con questo più o meno consegnare nel mare del Signore il giudizio particolare mi raccomando arriviamoci preparati prossimo tema è sempre meglio procedere per togliersi i denti quindi ci sta l'inferno, il purgatore e il paradiso seguiamo lo schema di Dantalighieri prima le brutte notizie poi le intermedie e poi le belle notizie quindi seguiremo quest'ordine certamente quando si parla dell'inferno le notizie non sono un gran che però anche qui meglio saperle prima tante cose piuttosto che doverle constatare quando non è più possibile porvi rimedio rimedio io vi benedica e la Santa Vergine a tutti e sempre vi protegga grazie a tutti grazie a tutti